Ci sarebbe anche Gianluca Benincasa ex di Antonella Fiordelisi fra i nuovi vipponi in quarantena per entrare nella casa del grande fratello Vip. Lui, insieme ad altri storici ex fidanzati degli attuali vipponi, dovrebbe entrare nella puntata di lunedì e quando il suo nome è trapelato online il padre di Antonella Fiordelisi si è allarmato. Il dottor Stefano Fiordelisi ha infatti dichiarato che sua figlia in questo momento starebbe vivendo un periodo di alta fragilità, descrivendo Gianluca Benincasa come uno che usa tecniche di approccio mentale. Cioè fatemi capire. Dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, Si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste, Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò. Chiaramente ossessionato da lei? Lo abbiamo visto in tv? E usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro? Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera. E la notizia, invece, caro Stefano Fiordelisi, sembrerebbe essere proprio vera. Il post del signor Fiordelisi è stato condiviso anche su Twitter dove è nato l'hashtag cancelletto no Gianluca Albvip mandato in tendenza dai fan di Antonella che ripetono a pappagallo le parole del padre. Grazie a tutti.